Durante l'evento Ansible Everywhere organizzato a Milano da Red Hat, dove noi di Extraordia abbiamo presentato lo Use Case Event Driven Automation insieme all'Università di Milano, ho incontrato Massimo Ferrari, Product Manager Ansible Automation di Red Hat, e io ho chiesto di parlarci del progetto innovativo presentato al Red Hat Summit di Denver 2024, Policy as Code. Ascoltiamo cosa ha da dirci. Policy as Code che abbiamo annunciato a Denver e che uscirà in tank al preview dopo la prossima release della piattaforma, quello che fa Policy as Code è molto semplicemente dire, perfetto, sto parlando col business dal punto di vista dei servizi che voglio erogare, quello che voglio andare a fare è parlare con un altro lato del business, che magari è preoccupato di, non lo so, regulations, oppure governance, oppure le mie policy interne come azienda. L'intera idea è che se sono in grado di avere un'esperienza che ovviamente per noi diventa Ansible First, sono in grado di dare un'esperienza che è simile a quello che è il resto consistente, se vuoi, il resto del linguaggio, per descrivere le mie policy, e posso usare questa stessa esperienza per ingerire le policy che la mia azienda già ha, praticamente creo un, se volete, un pacchetto di automazione che descrive al 100% le operations, incluso le business operations che sono all'interno della mia azienda. E questo è dove arriva il concetto di Everything as Code, Ansible as Code, o Automation as Code, chiamalo come volete, noi come vendor abbiamo sempre questa tendenza a inventarci la nostra terminologia, che non ha necessariamente senso. Ma l'intera idea è, l'automazione sta diventando, è già diventata, Mission Critical. Sono d'accordo, sono d'accordo con te, la vediamo in realtà nei nostri clienti, ha già quell'aspetto legato al Mission Critical, per cui se si ferma l'automazione si ferma il business. Perfetto, e l'idea è, molto spesso è una situazione in cui i clienti sono consci di essere, molto spesso è una situazione in cui i clienti parzialmente sono consci di essere e parte del nostro ruolo come gruppo di prodotto è quello di aiutare chi tipicamente è l'utilizzatore della piattaforma ad avere questa conversazione, se volete. Quindi l'intera idea di Policy as Code è creare, innanzitutto, questo layer più consistente che connetta tutti questi diversi punti e poi, diciamo, supplementato da una serie di altre funzionalità che introdurremo pian piano nella piattaforma che aiutano a, se volete, fare un po' di rappresentazione di quello che è l'applicazione delle policy o lo stato di compliance, l'intero intento di questo non è di rimpiazzare tutti, che molte aziende hanno comunque già, l'intero obiettivo di questa funzionalità è quello di prendere un investimento che è stato fatto, un investimento che viene voluto per produrre più valore dallo stesso investimento che è stato fatto e aiutarlo a connettere con una serie di processi che sono già esistenti, questa è l'intera idea. Guarda, ho già in mente una serie di contesti in cui una soluzione di questo tipo potrà essere davvero interessante e portare a gran valore, quindi stay in touch, ti roppero le scatole per chiedere qualche consiglio. Grazie mille Massimo. Ci mancherebbe. Ciao. Grazie.